La cinematografia mondiale ha bisogno di dive! Sabrina Ferilli torna su Rai 1 Non sapevo che aveva già scelto la belluce Con lei, un collaudato compagno di viaggio Scusa, puoi uscire perché non voglio testimoni dell'omicidio, grazie Alex è il suo ex marito Mamma, papà! Oh! Che fate? Che facciamo? E Iole, la sua fedele assistente Sei innamorata di lei, vero? E chi non lo è? Sabrina Ferilli è Gloria Prossimamente Rai 1 Grazie a tutti